Tanto gentile e tanto onesta pare di Dante Alighieri. Questo è un sonetto contenuto nel ventisesimo capitolo della Vita Nova. Io l'ho scelto perché è uno dei più chiari esempi dello stile della Loda e della scuola stirnovista. Tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia quand'ella altrui saluta. Cogni lingua devien tremando muta e gli occhi non l'ardiscono di guardare. E la si va sentendosi laudare benignamente d'umiltà vestuta e par che sia una cosa venuta da cielo in terra a miracol mostrare. Mostra si si piacente a chi la mira che dà per gli occhi una dolcezza al core che intender non la può chi non la prova. E par che della sua labbia si muova uno spirito suave pien d'amore che va dicendo all'anima sospira.